Sono accusate di aver svolto l'attività di infermiere senza l'abilitazione professionale in una struttura di riabilitazione psichica di Pomarico in provincia di Matera. Per questo 15 persone sono state denunciate in stato di libertà dai carabinieri. Dopo la segnalazione dei Nasse di Potenza che hanno riscontrato carenze strutturali e igienico-sanitarie, l'azienda sanitaria di Matera ha disposto la chiusura e lo sgombero della struttura. Entro 20 giorni dovranno essere trasferite in altre strutture le 10 persone che erano ospitate a Pomarico. Secondo quanto accertato dai carabinieri le 15 persone denunciate svolgevano regolarmente i servizi di assistenza infermieristica per le persone afflitte da problemi psichici ma nessuno di loro aveva la necessaria abilitazione professionale. Durante l'ispezione i carabinieri hanno anche accertato alcune irregolarità amministrative. Secondo i Nasi il valore della struttura è stimato in circa 300 mila euro.